Mercoledì pomeriggio il norvegese Jens Stoltenberg, a capo da tempo della Nato, la North Atlantic Treaty Organization, l'alleanza difensiva contro il comunismo prima e sempre più spesso per la difesa attiva dei paesi occidentali oggi, ha commentato le dichiarazioni del nuovo premier Giuseppe Conte. Un fatto inusuale perché Stoltenberg è sottoposto, da un punto di vista diplomatico, al capo di un governo. Il segretario dell'alleanza ribadiva a Conte l'importanza delle sanzioni alla Russia per l'annessione della Crimea. Pochi minuti dopo, sulla stessa lunghezza d'onda, si sintonizzava l'ambasciatrice americana alla Nato, Kay Bailey Hutchinson. Sembrava l'inizio di un rovente scontro diplomatico internazionale, alla vigilia del summit NATO di Bruxelles, dove è stato impegnato ieri e oggi il nuovo ministro della difesa Elisabetta Trenta. In realtà la Trenta si è presentata ricca di numeri e grafici e ha spostato l'attenzione dalle sanzioni alla Russia, di competenza del premier, tanto più ora che anche Trump vuole riportare Putin al G7, ha un ragionamento prettamente militare, stupendo in pratica tutti i colleghi con le stellette e facendo precipitare Stoltenberg ad annunciare che lunedì prossimo sarà in Italia per incontrare Conte. Il cuore del discorso della Trenta è stato attuare l'hub NATO per il Mediterraneo, con sede da sempre a Napoli, ancora incompleto, e tutelare le prerogative dei centri di comando italiani, ovvero far sì che il nostro paese abbia voce e peso nell'alleanza, un modo anche per evitare di pagare nuovi salati conti alla NATO, che chiede un aumento delle spese militari fino al 2% del PIL. Impossibile per l'Italia se dovrà puntare su flat tax e reddito di cittadinanza. La Trenta ha anche chiesto di garantire i confini a sud, bisognerà vedere se la sua richiesta fa il paio con l'annuncio del ministro dell'interno Salvini di far pattugliare il Mediterraneo in funzione anti-migranti e terroristi alla NATO. Finora i paesi scandinavi si sono sempre opposti, preferendo Triton. Ora vedremo cosa accadrà.